Un saluto da Maria Grazia Miceli e ben trovati su Globus Sport News. Iniziamo il nostro TG a cura della redazione di Globus Television parlando di calcio. Il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic ha rifiutato il prolungamento da 13 milioni di sterline che gli ha proposto il Manchester United. L'infortunio al ginocchio subito contro l'Underlecht in Europa League costringerà lo svedese ad uno stop di nove mesi. Secondo il Sun Ibra ha giustificato la decisione di non firmare il nuovo contratto con il Red Devils vista la lunga convalescenza che lo attende. Per cui al calciatore sembrerebbe ingiusto guadagnare così tanto nonostante la riconoscenza meritata con una prima stagione all'Old Trafford con 28 gol in tutte le competizioni. Ma si pensa anche che all'origine del gran rifiuto allo United si potrebbe nascondere la tentazione di trasferirsi negli Stati Uniti dove ha deciso di farsi operare. E ora passiamo al ciclismo Urbano Cairo presidente EAD della società che tramite RCS Sport organizza il Giro d'Italia ha affermato durante l'assemblea degli azionisti RCS che il Giro d'Italia ricorderà Michele Scarponi il campione della Stana scomparse il 22 aprile. E ora cambiamo pagina e passiamo al basket. Per quanto riguarda i playoff dell'NBA i Toronto Raptors e i Sant'Antonio Spurs hanno guadagnato l'accesso alle semifinali di conference. Dopo aver battuto rispettivamente i Milwaukee Bucks con il punteggio di 92-89 e i Memphis Grizzlies per 103-96 Toronto e Sant'Antonio si sono dunque portati sul 4-2 e quindi passano entrambe le semifinali. Per quanto riguarda il tennis Sara Errani è stata eliminata al secondo turno del torneo WTA di Istanbul. La romagnola che sabato spegne 30 candeline numero 110 del ranking mondiale ha ceduto dopo una maratona di oltre 2 ore e 3 quarti per 76-36-63 alla belga Elis Martins numero 65 del ranking mondiale e sesta testa di serie del torneo turco. Catania e la Sicilia ampiamente rappresentata nel circuito del motorsport al campionato italiano Gran Turismo al Via nel Weekend ad Imola saranno ben due i piloti etnei impegnati. Francesco Lamazza e Giuseppe Nicolosi correranno insieme sulla Porsche 997 GT3 del team AB Motors nella classe GT Cup. Lamazza parteciperà anche alla classe GT3 alla guida della Ferrari 458 della Easy Race. Insomma un grande proscenio per due ottimi piloti che si faranno valere nella competizione che più di ogni altra riunisce i migliori d'Italia. E ora passiamo alla pallannuoto di A2. Per oltre tre tempi la nuoto Catania ha tenuto in scacco la capolista Roma nuoto cedendo di schianto nel finale vanificando la possibilità di agganciare gli stessi capitolini in vetta alla classifica. Gli etnei rimangono così appaiati al secondo posto insieme al Rechi Salerno a sei distanze dalla prima posizione con cinque lunghezze di vantaggio dal quinto posto occupato dalla Water Polo Bari quando mancano quattro giornate all'inizio dei playoff. Era questa l'ultima notizia di oggi. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.